Salve a tutti, oggi vedremo come inserire un codice promozionale che abbiamo trovato, ci hanno regalato su Spotify. Vediamo come fare. Andiamo sulla freccetta, dopo di che account, aspettiamo carichi, dopo di che come vedete qui in fondo c'è scritto riscatta. Noi potremmo, andando qui, infatti avremo la possibilità di inserire il nostro codice, il nostro buono regalo o codice premium che abbiamo ottenuto per qualche ragione. Quindi, per questo video è tutto e alla prossima.